Ciao ragazzi, sono Femme Marulli e siamo al terzo video di oggi. Farò la reazione ad un video che si chiama The Lama Song. Comunque... Raga, voglio salutare in questo video Manola Marulli, poi Valentina D'Alan, poi Camilla Tacconeri, infine Giorgia Zeto. Sentiamo com'è sto video. Allora sento un'altra volta. E sentiamocelo un'altra volta. E quindi raga, ci rivediamo al prossimo video. Ciao! 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 Ciao!